qua ha inizio il sentiero naturalistico di ponente adesso ci avviamo e vi farò vedere guardate le caratteristiche pale di figo di india poi ci sono le palme e poi c'è la cosiddetta macchia mediterranea in lottananza possiamo vedere un vecchio faro ormai in disuso e da qua si va al cosiddetto laghetto di venere il sentiero prosegue in mezzo a questi fantastici uliveti e ai magnifici fiori che vedete qui nel prato guardate quanto è caratteristico questo affaccio sul mare un piccolo angolo paradisiaco in lottananza si possono vedere le isole olie guardate che meraviglia guardate che spettacolo della natura questa è la scalinata che conduce alle piscine di venere bisogna scendere ancora un bel po fare tanti gradini per arrivare alle piscine di venere ma quelle ve le mostrerò in un prossimo video adesso vi do un assaggio vi do un'altra bellissima giornata in mezzo al verde e alla natura vedete questa bezzogna giornata ahahah 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 GG